Mi raccomando, sempre banale, ma prima di piantare, mettete la plastica in torno alle radici. Eh, sembra ovvio. E mettetevela in pianta, perché non è giusto lasciare assolutamente nessun tipo di legno del nostro passaggio qui che non sia la pianta. Quando avrete toccato le radici, mettetele a dimora, ripetendo come un segreto alla vostra pianta quella che è la vostra parola. Grazie a tutti.